Ringraziamo l'architetto Kippa, diamo la parola al sindaco per una chiusura, per un saluto e per prepararci per i fuochi, per il corteo. Naturalmente ringrazio l'architetto Kippa che ci ha aiutato a portare avanti questo nostro ideale di una soppacampagna sempre più bella, questo è quello che dico io questa sera. Ringrazio il vice sindaco Residori, qui vicino a me, l'assessore Montresor, Bricolo e naturalmente il presidente dell'architetto di Toffoli di Verona. Grazie a tutti, ci prepariamo per andare a vedere lo spettacolo pirotecnico, piromusicale, mi scappava la parola, quindi ci alziamo, ci raduniamo lì davanti, ci sarà il corpo bandistico di Sommacampagna, ci sarò io, il gonfalone di Sommacampagna e tutti naturalmente i nostri concittadini. E l'architetto Kippa andiamo a piantare il primo alberello, ok? Grazie, andiamo.